Un canto per, proprio la nostra voce regalata a loro, che possa servire veramente a tutti i bambini e a tutte le persone che hanno bisogno d'aiuto in questo momento. Una serata di musica e solidarietà per l'Unicef è la Caritas, un momento di canto corale nella cornice di Santa Maria della Pieve con l'associazione Voce in Canto. Il concerto, la musica è la cosa che unisce tutti, ma che fa capire a tutti quali sono i diritti di tutti i bambini. Soprattutto perché ci si mette di fronte a sempre più povertà, sofferenze, miserie, che non sono più quelle di una volta e basta, che mancava qualcosa in casa. Oggi c'è anche situazioni particolari, anche nel mondo giovanile, quindi bisogna stare molto molto vicini e molto attenti. La serata musicale si è aperta con un esempio di unione, integrazione e inclusione. In scena il grande coro Mani Bianche, formato dai coristi del coro Mani Bianche, dal coro Voci Bianche e Giovanile e dal coro Cantori di Vita. Faremo tutti i canti tratti da poesie famose di Pascoli, di Annunzio, di Rodari, di Piumini. E poi avremo un momento di meditazione con quattro canti mariani e concluderemo con la messa di Gonoscia Pelle, che è una messa piena di gioia, di allegria, che è stata proprio scritta per salutare un grande maestro di cappelle. Quindi ha dentro gioia, ma nello stesso tempo malinconia. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.